Riello UPS Riello UPS esporta il 70-75% del proprio prodotto nei mercati internazionali, europei e extraeuropei. È chiaro che le nuove azioni sono principalmente rivolte verso i mercati asiatici che rappresentano per tutto il nostro mondo un'opportunità di sviluppo assolutamente interessante. La sponsorizzazione di Ducati è importante perché accoppia il senso della tecnologia italiana della nostra azienda a un'altra azienda italiana di alta tecnologia che esporta il proprio marchio attraverso le gare sportive ma che rappresenta in sé un valore tecnologico importante. Questo è un po' il nostro schema di lavoro nel proporre Riello e Ducati.